Mai come in questo caso la collaborazione con il cittadino è stata fondamentale. Un sessantenne stava rientrando a casa a Vede Lago quando, aprendo la porta, ha sentito dei rumori. Non ci ha pensato due volte, si è allontanato ed ha subito allertato il 112. Fortunatamente, proprio in zona, stava transitando un'auto dei carabinieri. Noi in questi giorni stiamo facendo dei servizi di prossimità anche nei confronti di coloro che sono purtroppo vittime di questi reati e siamo intervenuti immediatamente e abbiamo preso i ladri mentre stavano fuggendo proprio a circa 500 metri dall'abitazione. In manette sono finiti tre albanesi di 18, 24 e 33 anni, irregolari sul territorio nazionale, colti in fragranza di reato. I tre, con volto travisato, avevano appena messo a segno un colpo a casa del sessantenne. Si sono impossessati di alcuni preziosi in oro e di denaro contante che sono riusciti a gettare purtroppo in un canale e le ricette che sono state infruttuose non siamo riusciti a recuperarlo, però comunque siamo riusciti ad assicurare la giustizia ai tre soggetti. Nel corso della perquisizione personale gli arrestati sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, torce e guanti da lavoro, strumenti che confermano la premeditazione del crimine. I tre malviventi, bloccati da un equipaggio del nucleo operativo, sono stati condotti nella camera di sicurezza della caserma. Questa mattina l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Abbiamo intensificato i controlli. Noi sommariamente mettiamo ogni giorno all'incirca 100 servizi sul territorio della provincia di Treviso che in questi ultimi periodi sono stati rinforzati dalle squadre di intervento operativo. Sono squadre che provengono dal quarto battaglione mestre e sono specializzate appunto nelle attività di collaborazione con l'arma territoriale per gli interventi sui reati predatori e altri tipi di reati. L'operazione sottolinea l'importanza della costante attività di prevenzione e contrasto condotta dall'arma dei carabinieri sul territorio con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini.